ok samantha dimmi come la vedi allora l'avete davanti come se fosse uno schedario si come se fossero squadare tante caselle dove lei ha dentro i suoi file i suoi dati ok solo che si sono confusi si sono mischiati e quindi lei li e vuole cercare di rimetterli nelle caselle giuste e dice se possiamo insieme a lei rimetterli a posto ti dà l'applicazione l'autorizzazione se è furiosa e detto furiosa no è scocciata no no davanti a casa e la gioco come la che cercate di rimetterli nelle caselle giuste qual è il suo stato se raiutiamo un po agitata ok sta già un po piangendo quindi citata va bene allora samantha era religiosa l'unica della sua famiglia poi visto alle sessioni e per colpa tua irena adesso non lo è più preso un bel sacco poso tutte le icone di casa no tu pensa a volte io sento qualcuno di molto religioso che guarda un film indiano e si mette a ridere degli indiani che hanno la statua di ganeshi in casa che hanno cali che hanno tutti vari di dei hanno l'angolino dove mettono i petali dei fiori accendono gli incensi e commentano questi qua come dei selvaggi ma guarda questi qua magari maniera anche rispettosa però come dei degli inferiori di quelli che non hanno capito niente poi vai a casa loro e c'è la versione cittolica ma è roba la candela e non l'incesso tutti gli altarini con santi ma io guardi come niente ma santo antonio non me lo puoi toccare perché quindi e ganesha è possibile che non si accorta nessuno perché non si accorgono anche le vecchiette anche quelle con la seconda elementare perché non ci arrivano è possibile ma perché c'è quello che vede da qua come se fosse volendole tenere lì tenere in questa cosa ok quasi come se questa realtà la vedono quando sono in quella realtà e poi quando escono quasi come se la cancellassero non so se ho reso l'idea e non la facciamo per confrontare andiamo nel mondo delle entità mentali collettive baili non ci sono che entità mentali collettive sono sette sono nuvole sotto nuvole legate sopra ai continenti poi gli stati le città e persone solo quel piano lì siccome questo mondo di persone rincoglionite interferisce con il mio io ho l'autorizzazione del sistema in cui sono inserito per ritrasformarmi in bimbo matto bombarolo bnb ed inizio a creare miliardi di miliardi di ad eternum che metto in tutta questa zona grandi e potenti come nessuno mai tutti i tre verità veritas voluntas vita tutti di tre tutti giganteschi tutti equidistanti quindi prendono tutte le entità mentali collettive tutte tutte le religioni le sottosfumature le sfumature tutte le sette tutti i sistemi di credenze con acion dio a tutti i vizi tutte le malattie tutto e la scienza tutto a dobbiamo credere alla scienza tutto tutte le entità mentali collettive io sono stufo marcio nelle palle piene devo vivere in un mondo di e ne ho le palle piene e questo interferisce con me quindi io metto gli ad eternum cioè non interferisco con nessuno ma alza la frequenza vado a rompere le palle a ogni ad eternum che metto c'è una nuvola opportunity che succede allora ogni e ad eterno che che si mette crea un un temporale quindi proprio lo scontro no come il il tuono e il fulmine ok che stacca tutte le molecole diciamo della delle varie nuvole entità mentali collettive ok e si riaggregano con opportunity quindi ha proprio tutto così un mano che si mettono le ad eterno ci sono tutti questi fulmini questi tuoni queste esplosioni di energia ok se amante ha dato l'autorizzazione giusto vibrazione 29 miliardi percentuale di consapevolezza 172 adesso questi due valori guardami per favore elena come sono quando nel momento di massima credenza religiosa samantha si trova in quella condizione vibrazione consapevolezza vibrazione un miliardo consapevolezza 96 psp adesso sono ps 43 e 57 vite precedenti 1835 cervello 9.5 va bene chiamiamo nel cinema cinema i figli 2 la famiglia l'ex la madre la famiglia la madre non il padre perché disincarnato chiamiamo la l'entita mentale collettiva della chiesa cattolica come la vedi si arriva lentita mentale collettiva che la solita nuvola tipo nuvola nera c'è tipo stasiccio cuscino nero ok davanti a come se avesse come immagine come se avesse una vetra atta tifani sul blu e arriva però insieme a un ologramma di un cardinale sembrerebbe ecco è collegato a samantha no era quella di prima è arrivata quella a cui era collegata la samantha collegata quando quando samantha era religiosa era collegata a questa immagine a questa interferenza con un ologramma un cardinale che andiamo alla samantha religiosa cioè apriamo come dire uno schermo e samantha vede se stessa bo 15 anni fa quando era lì che pregava pregava e pregava anzi andiamo quando era bambina quando il papà delle sua della sua amica faceva si procurava piacere guardandola si bastuava e lei poi non ha detto nessuno e ha pregato c'è sempre questa se tu voi pensate la cosa del peccato è geniale ma che non bisogna dire le cose sempre cari di prete mette le mani sulle gambine ma è segreto perché se no è peccato con la questione del peccato tutti alzano le mani perché che sei credente e quindi stai al ricatto e si forma non si raccontano balle si inizia un vortice di di follia domino di puttanate si finisce solo in fondo a questo cono con la punta verso il basso che poi le bugie hanno le gambe corte no tutto torna poi alla fine a fronte di anni di sofferenze di malattie di tutto pensata che geni cosa fa la bambina savanta si vede proprio che parte il meccanismo auto ma direi automatico nel senso oddio questa cosa è un tabù quindi io non la posso dire o ribrezzo mi sento in colpa per il prego e passa al ribrezzo cioè prego per neutralizzare questo mio senso di colpa per il ribrezzo e per lui che fa questa cosa che non deve fare ok chi li fa passare c'è un entità che le fa passare il ribrezzo se c'è questo collegamento con questo cardinale che ovviamente è solo un ologramma collegato al al secondo universo ma ecco che cercavo di collegarlo è il santo famoso da qui te viene lei e chi è scusami non so che posso dire santo possiamo dirlo sì sì possiamo dirlo santo antonio da padrona ok ancora non capivo chi era capivo chi cavolo era cardinale era sulla verona eh sì me l'ha detto noia entità interi che allora c'è questo demone posso dire un diavoletto nel senso che non è satana in person c'è non è satana non è lucifero non è molo ma era come un folletto con le corna e le sembianze un po da diavoletto sì diciamo anche che satana lucifero di fatto non esistono sono delle entità che hanno detto ah dai ci appiccichiamo questo nome e facciamo questo ruolo nel gioco vuol dire che diciamo un'entità che non ha poi così grande importanza o potere ma potrebbe anche averla in ogni caso non ha nessun potere comunque l'immagine che si è collegato a poi scusa vai timidimi si è collegato all'entità mentale fumo ok quindi è quello che il 25 ottobre quando hanno voluto aprire la porta dell'inferno a roma o l'ha fatto non l'ha fatto eccetera lei comunque condizionata da questa cosa fa un incidente stradale dopo 12 anni che non fumava ripresa a fumare oggi si vergogna molto ma che il marito non lo sa lo fa di nascosto diavoletto captor sì poi c'è un falco uniforme è un'amantide poi dl dl non ci sono sì sì dl ce ne sono due e uno dentro due fuori uno dentro ok chiamo anche tutti tutti quelli che hanno partecipato al gioco di samantha dall'inizio a oggi allora abbiamo c'è se quello di prima che abbiamo già chiamato sant'antonio poi c'è un leonide c'è un ecco zeus ma due tigliani è un grigio però più che altro il leonide c'è un sacco di gente l'affollato lei diciamo autonomamente riuscita spesso a togliersi delle interferenze senza esserne consapevole quindi poi tornavano di nuove ma non sono mai state le stesse che sono tornate va bene mentre mentali l'entità mentali allora sì c'è questo collegamento con l'entità mentale collettiva fumo di livello 5 poi c'è questa mentale c'è un entità mentale di livello 3 una di livello 2 quindi 5 fumo sì questo quasi come se le provocasse un po d'ansia come posso dire sì allora si lega alla sua sensazione di non essere in grado a volte di poter risolvere i problemi altrui mi viene da dire perché l'apeto c'è se qualcuno arriva e le pone un problema le chiede magari aiuto o consiglio ok parte questo meccanismo po di ansia non esagerata ma questo è un po di agitazione in quanto lei sentita mentale le fa credere di non essere in grado di risolvere il problema altrui ecco e la 2 la 2 le pone un limite ecco un limite di faccio spiegare quasi come se fosse che riguarda a se stessa riguardo potrei dire la cura la prendersi spazi per lei ok quasi come se per sentire da indagine le creasse un limite quindi come se lei si convincesse che ha diritto a del tempo per lei o delle cose per lei solo fino a un certo punto non so se ho reso l'idea ok allora c'è questa ghiera direi una ghiera all'interno della testa al centro con sul bordo tipo dei fori ok ok e questa ghiera viene girata dall'entità mentali a seconda del pensiero che devono utilizzare in quel momento per controllare samantha quindi a seconda del punto che vogliono attivare girano la ghiera e poi fanno passare tipo i pensieri da questi da questi fori e così con la controlla controllo non so su mentale poi riguardo alla tiroide c'era c'era un impianto eterico e la sua ps ha attivato un meccanismo di inglobamento di questo impianto e questo fa sì che la tiroide risulti infiammata risulti sempre troppo attiva troppo grande e poi c'è un impianto più o meno come se fosse un cerchio sotto il diaframma ok che quando soprattutto per quanto riguarda quei momenti in cui l'entità mentale di livello 3 le deve far attivare quest'ansia questo poi agitazione ok viene attivato questo impianto che sale un pochino e quindi limita il movimento del diaframma si potesse trattenere il respiro poi poi a se due impianti sul sul dorso dei piedi più o meno vicino alle dita in mezzo quindi terzo quarto di pieno quel livello lì sul dorso del piede sia a destra che a sinistra poi basta cause sottica della tiroide va bene l'impianto ma perché a lei ha permesso che le mettessero quell'impianto quella è la vera causa allora quando gliel'hanno messo era un controllo di tipo umorale mi viene da dire nel senso è quasi come se volessero modularla utilizzando gli ormoni quindi farle cambiare stato per diminuire le vibrazioni direi modulando agli ormoni tiroidei vista a calo della vista continuo è lei si sta accorgendo di troppe cose lei che ha iniziato da quando ha smesso di essere religiosa sta accorgendo di troppe cose quindi cercano attraverso cercano in tutti i modi di coprirle la la vista per farle vedere la realtà ma lei continua comunque a devolvere a scoprire la realtà e quindi loro cercano di diminuirle sempre di più la vista udito nonché pur rito all'orecchio destro tentati allora vedo che gli arriva di informazione uditiva ok la vedo che entra da qua e esce da da sinistra ok mi viene da dire quindi cercano di bloccare l'entrata del l'informazione uditiva ok ma il prurito e il dolore all'orecchio non è fa non ci sono impianti ma è vedo anche quale una reazione della ps al tentativo di bloccare informazione uditiva quindi è un contrasto alle entità che cercano di bloccare questo boccone uditivo meno pausa anzitempo allora vedo più come una reazione emotiva a tutto il suo diciamo una sua come posso dire e non mi viene la parola perché non è rapporto con il sesso perché per lei un giro di parole un alto strada non devi fissati su una parola devi fissate su un concetto no no certo sto cercando di spiegare praticamente è lo vedo legato alla sua contrasto non so come dire a quello che gli è stato limitato a livello sessuale nella vita ecco sì quindi vedo proprio una reazione del corpo a è come se fosse direi attivazione ma un disequilibrio un disequilibrio vibrazionale rispetto a quello che contrasti che ha avuto appunto nella vita livello sessuale quindi lei vorrebbe diversamente ma ha sempre un limite esterno che invece la limita a livello sessuale ecco quindi come reazione legata come reazione viene bloccata questa cosa il ciclo va bene vediamo tutta la sua sessuale allora c'è l'episodio del del padre dell'amica c'è l'attuale compagno marino con difficoltà c'è il peccato un senso di colpa c'è la vecchia storia con cui dalle lei dai libata perde appunto la virginità poi si fa avanti la madre di lui bacia pile e loro passano sette anni di relazione in bianco perché chi ha festeggiato in quei sette anni chi ha aperto bottiglioni di champagne di prima qualità nell'entità ovviamente ridendo a crepa pelle perché diciamo delle cose sì c'è c'è quel io vedo ci vedo la ma vedo la mantide che è collegata su questa cosa c'è sempre ma allora la costante e la mantide negli anni ok con la collaborazione di appunto soprattutto il cardinale che è stato antonio poi a un certo punto c'è anche mi viene fuori proprio la madonna è arrivata così se fosse su un ascensore e poi vabbè adesso abbiamo la mantide quasi come se con il marito la cosa sare fosse stabilizzata e quindi basta la la mantide che ciuccia il marito nel cinema sì che fa il marito quasi in potrei dire adorazione di samantha nel senso molto la stima molto la vede come punto di riferimento mi viene da dire va bene ma io non so molto non sono possiamo fare molte cose sulla sessualità nel senso delle interferenze sono queste ci sono impianti proprio relativi alla alla parte genitale no no impianti no no c'è solo questo squilibrio ormonale appunto che ha dato a livello emotivo da tutta questa no questo contrastare questo impedimento quindi il desiderio che è bloccato e sballa un po come si chiama il progetto di samantha la psd samantha ha deciso di iniziare il progetto che ha nome e dominato dal sesso e dal peccato no dal senso di colpa direi ecco stesso senso di colpa sono le due costanti come si chiama cerchio cerchio della vita viene ma è proprio il senso opposto cioè ti limito in un cerchio i tuoi movimenti rispetto al alla parte sessuale sensi di colpa e quindi a vivere liberamente questa parte però mi fa proprio vedere le teri con un cerchio dove viene limitato tutto e dove c'è quasi come se c'è in eterico io vedo samantha chiusa dentro a questo cerchio che bastone in una direzione può andare solo in una direzione perché loro la fanno andare in quella direzione lì quindi progetto è proprio cerchio della vita quasi come se fosse su un binario rotondo va bene più che chiamare in causa tra le sue 1235 vite quella più vicina quella più lontana chiamiamo quella o quelle più in grado di farci capire il perché di questo progetto di queste tipo di esperienza se ce n'è un'analoga una opposta allora la prima che mi è arrivata aspetta siete scompassi tutti e tre e siamo tornati e anche la manata l'ha visto causa esoterica c'è proprio un tentativo un tentativo un interiore tentativo di vedere se riescono a interferire sul nostro lavoro a un altro modo anche programmi da quattro soldi se non posso penso che non possono proprio quindi nessun programma che nessun creatore c'è solo un programma rompermi per i co ma non può non può nulla è un programma se voi ci pensate un programma non è neanche tangibile è un software è un sistema meccanico cioè è un sistema che si sposa con la simulazione in cui siamo immersi tutto lì che poi la simulazione a volte sia un fiore la natura il braccio la carne il dolore se mi taglio non so mi faccio un taglio sulla mano o un software vero e proprio che si mostra come entità come sant'antonio che è un software come un computer nella realtà che è un sotto software ma di fatto anche quello è un software stiamo parlando veramente di codice ma se sì perché siamo dentro un software questo è un software questa è una simulazione quantistica quantica diciamo dentro una importante la vita la cosa più importante non non c'è niente è importante capirla quello sì sì allora allora samantha ero un frate quelli vestiti di marrone sono benedettini e si indagano francescani bravo si francescani ecco sì quindi la privazione di tutto del piacere della carne quindi della parte sessuale della parte alimentare digiuni su digiuni grandi preghiere lavori impossibili pulizie di scale immense che sono già pulite umiliazione proprio il massimo della puttanata in pratica proprio l'opposto di quel che esatto 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 ma lì in quella vita lui ha ceduto alla parte sessuale tutto il resto se chiaramente se un uomo con una donna lui era un uomo che non è un grato originale pensate che gli omosessuali tra i preti sono ti pombo al 70 per cento vedete in crisi e di tale ipocrisia cosa che lo sì e quindi è come se la ps avesse voluto fare l'esperienza opposta no però con lo stesso con la stessa limitazione c'è adesso poi matti limiti non so se allora la non poteva fare niente e ha ceduto alla parte sessuale qui invece poteva fare tutto ma senza la parte sessuale quindi questo è stato la prova l'esperienza pronto sì anche l'altra visa aspetta l'altra vediamo la all'opposto ma che questo è un po all'opposto però di questo all'opposto ma aveva quel senso lì però era un frate c'è una vita stiamo parlando di quasi duemila vite c'è una vita in cui lei lui libera se gode le cose mezzo alla natura da sola con altre persone fa quello che le pare si fa una risata davanti alla religione di turno e me è la mosca bianca e la pecora nera allora la prima che mi viene questa comunità è molto libera molto contatto con la natura dove vivevano praticamente in questo queste norme distesa di bosco tratti ed erano una comunità a che si autogestiva con pochi contatti all'esterno perché non erano visti diciamo non erano conformi ma erano molto liberi molto liberi di esprimersi poi invece dove era la mosca bianca era lei in francia 1700 direi dove si lei era molto ribelle nel senso che non era la tipica dama no tempo stata tutta ma faceva come cavolo voleva faceva i lavori da uomo c'è tutto quello che voleva infatti era abbastanza direi proprio ribelle lì ha sperimentato parecchio nel senso che vedo che c'è stato un periodo dove ha tagliato i capelli molto corti dove si investiva con i pantaloni periodi diversi dove ha fatto vabbè faceva fare i lavori era molto in contrasto con i genitori se va bene ok perché è venuto fare invece il cerchio della vita ma poi perché il cerchio della vita perché inizia in un modo e finisce in un altro no loro obiettivo è farla girarne sempre su quel binario li ripetere sempre lo stesso schema non può uscire da quel binario che è un cerchio e il loro obiettivo perché qual è la cosa di come rica sì quasi come se ne te rico questo circhio sostituisse la cintura di castitati di lei perché samantha che era così religiosa ha visto per caso non so le sessioni e è andata avanti fino a fare tutto quello che ha fatto finora e non ha semplicemente detto stupidaggini non ha semplicemente commentato come alcuni fanno i video dicendo che non è vero quello che diciamo che gesù è tutto e che dobbiamo pregare perché lei non ha fatto così visto che la bambina la ps ha dato questo spunto a samantha ed era c'erano due possibilità allora era uno spunto vedo che gliene ha dati anche altri due o tre ma non sono stati efficaci ok solito sperimentare della ps no per vedere quando è ora di metabolizzare esperienza questa volta agliato questo spunto e samantha l'ha colto quindi è ora di arrivare alla chiusura dell'esperienza quindi è riuscita a sganciarsi da tutto questo perché ormai l'esperienza è arrivata alla fine va bene sua personale esperienza della paranoterapia interferenze non interferenze più che altro gli hanno preso gli hanno preso un po di energia mentre facevano seduta non vedo cross interferenze dopo riflessologia plantare sì allora quelle che lei ha visto erano degli inizi di abduction che però la sua ps è riuscita a bloccare in tempo questo in sogno è parte di appunto questi demoni che volevano fare sacrifici no in eterico ma la ps si accorta in anticipo quindi non ci sono stati fatti e ha fatto sì che lei si accorgesse che era legata a questo tipo di energia no quindi vedo proprio che c'è stato il tramite del riflessologo riflessologa non so per agganciare samantha quindi quella persona li è interferita anche con questo tipo di demoni stessa domanda riflessologia plantare no no questa era sulla riflessologia plantare se non la prana terapia invece che prano terapia li ha preso solo energia mentre faceva le sedute che prendevano solo un po di energia e cinema fratello setta viene no fratello non viene ok il fratello si occupa direi fuori ti dirà da fuori cerca con questa faccia proprio da cruda demoniaca cerca di mandare impulsi energetici hanno al cinema di samantha ma ovviamente il cinema ci sono sempre io nella sala proiezioni a una mano scendo scendo esco e lo guardo gli chiedo scusa cosa vuoi devo prendere più adepti possibili è un uomo energia neutro che ha il compito di abbracciarlo in seguirlo per sempre abbracciandolo e me ne ritorno in sala proiezione cosa fa resta lì davanti al cinema rompere i a no prova a scappare ma non mi aggirà già quindi scappa va si 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 capa ad eterno va beh vedere le partite di calcio la televisione le sette per quello che ti pare basta che tenevano a fare in culo via al tentato di fare dei legamenti alla sorella sì 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 tutti devono prendere più adetti possibili ok la sorella l'ha chiamato perché c'era il lutto del padre lei ha visto un'altra persona di che è successo se ne ha accorto che si è accorto della del suo distacco non è riuscito nel suo intento diciamo è quasi come se il loro compito giornale fosse quello di quando incontrano le persone di ammagliarle no quindi attirarle nella setta e se accorto della dello stupore della sorella che l'ha guardato in maniera ha proprio distaccata anzi anita esatto e quindi lì ha capito che lei si era accorta di questa cosa e quindi la reazione è stata di la stessa cosa che ha voluto far che ha provato a fare nel cinema quindi è come se in quel caso li cercassero di mandare energia negativa per abbassare le vibrazioni e cercare di con le vibrazioni passe di agganciare persone quindi vedo questo meccanismo qua va bene prima di andare di andare alla ben realtà nel cluster anche questo è un contratto che lei ha stabilito nel cluster di essere lievemente interferita dal fratello ma lei ha qualcosa c'è il fratello riuscito lei in qualche modo ha accettato no se l'unica cosa che è riuscito a fare abbassare un po le vibrazioni quando ha mandato questi intenti energetici di abbassare le vibrazioni ma in quel momento lì con un po di strasci con i giorni successivi e basta questo vedo però non è riuscito ad agganciarla se non sarebbe lì adesso cioè se il loro intento funziona portano le persone nella sette chiamiamo il padre disincarnato intanto per un portale auro tutti i parenti di tutte le generazioni di samantha sono invitati arriva un po fatti che lo vedo abbastanza sovrappeso arriva con fatica affaticato quasi come se gli ultimi tempi della sua vita si fosse trascinato diamogli una vic la diamo anche tutti quelli che sono nel cinema il figlio con quella storia un po strana in corso l'altro figlio il marito la madre tutti quelli della famiglia che sono venuti e il padre disincarnato la vic la possiamo dare chi vuole vogliamo se padre la presa si è liberato di questo il peso del corpo e dice ho vissuto gli ultimi anni con delle zavor che non mi conto che non mi appartenevano ne sono trascinate cosa vuole dire al miglio ti ringrazio profondamente per dare questa occasione sei sempre stata la più strana della famiglia ma io ti volevo un gran bene perché ti vedevo molto forte e determinata poi l'abbraccia vuole lasciare un messaggio la moglie avevo in mente tante cose belle da fare assieme peccato che mi sono preso queste zavorre che mi hanno portato alla morte vivi dice vivi che mi tira vita va bene lo salutiamo invitiamo se vuole ad andare nel portale auro ci va se si 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 ok quando sono andati tutti quanti erano i parenti 154 più padre quando hai fatto quando hanno fatto chiudiamo tutto andiamo al cluster no no come vedi i contratti se ci sono sì 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 ci sono diciamo che ci sono queste ciambelle salate se tipo i bei cols se tipo e ogni vita più contratti a più la cia bella è grossa con altre ciambelline sopra più piccole ok tiene sono buone le ciambelle la nostra prende portare definitivo e pota tutto dentro da tutto e dentro perfetto una chiusa al posto di questi contratti di queste ciambelle salate può mettere tante ad eterno un quante le pare quanto le pare si è vero l'immagine perché ha messo la mano così e escono ad eterno come se fossero salebole di sapone continuano a uscirne e si depositano nel cluster intorno anche in aria e adesso pian piano si stanno unificando per fare un'esplosione di energia benissimo avata prezzi si è inerme via a letrano in queste fasi che sono sempre uguali perché non possono che essere uguali la ps la p e della persona in questione impara a gestire il gioco se nel modo più rapido al cuore del problema ed efficace gestisce il programma toglie quello che non vuole più mette quello che gli piace stiamo cambiando il paradigma la sofferenza si è già fatta adesso proviamo ad sperimentare il gioco in alta frequenza e vediamo com'è ok sono ad eterno molto sì fatto benissimo caftor e l'entità del secondo universo dalla quale si fanno le dichiarazioni dei redditi questa il falconi forme la mantide zeus sacco di roba e dl di tutti i tipi le tre entità mentali gli impianti eventuali cloni non scrivetemi ogni tanto alla fine della sessione ma non abbiamo visto i cloni non c'è più niente anche se non lo nomino non ci può essere più niente ma non hai visto gli dl raga da c'è ancora qualcosa no ok nuova vibrazione era 29 nell'epoca religiosa era una 1 miliardo oggi è 196 miliardi bene quella tarla vuole fare il gioco dei numeri 196 il più basso è uno vuole mettere il 6 davanti 619 691 se un gioco da software perché non lo fa però a 69 1 lei è molto meglio vuole provare a stare molto meglio ok 69 1 sta provando si è spessa pronto si sta alzando scusa 450 a 600 e vedo che la sente tanto quindi non la tiene se se 600 matici di più se troppo per ora va bene 600 va bene da 600 volte meglio di quando pregava detta così proprio quando pregava quando sentiva se sta il senso di colpa quando tutto era peccato ma come di senza dalla sedia ma è peccato ma come raccolto i capelli ma è peccato mai sciolto i capelli soprattutto è peccato ma come hai lavato i capelli ma è peccato così se più attraente dio non vuole sei libata deve rimanere libata fino al matrimonio vi rendete conto signori rendetevi conto ma come hai spostato l'immagine di sant'antonio lo sai che deve stare lì vicino alla nonna perché lei lo voleva gli voleva tanto bene vi rendete conto rendete conto ok dipingetevi la faccia di segni fate i giochi con le ossa del pollo fate queste robe perché se questo vale anche l'altro sennò iniziate la cosa con la consapevolezza è iniziata a capire le cose messaggio finale di samantha se stessa allora ho proprio questi mi fa proprio vedere queste immagini allora samantha nella sua allora nelle sue vibra nelle sue 600 miliardi di vibrazioni ok è immersa proprio quindi che si solleva da terra e gira a 360 gradi quindi tutto tutta la sua realtà lo può creare e vedo proprio che la cosa ideale che può fare è mettere l'intento di creazione in tutte le cose che non le vanno quindi qualsiasi cosa la vedo in casa sua che parla con suo marito e c'è una cosa che magari lei vuole che che si svolga in una certa maniera invece si sta svolgendo in un'altra maniera lei mette il suo intento di creazione con gli ad eternum ci lo fa per un po di giorni e poi quella cosa si crea come lei la vuole e questo vale per tutto proprio direi che l'incasellamento dell'inizio può funzionare così nel senso che proprio a mettere l'intento su ogni cosa che lei vuole in maniera diversa c'è la cosa che le fa che la che è sempre verso il suo benessere no quindi creare la sua realtà verso il suo benessere sempre benessere centrandosi e alzando le vibrazioni con la consapevolezza 213 dc ps 69 vite precedenti mille 238 cervello 9.8 ma bene cinema il figlio con la relazione un po complicata cosa fa allora visto quello che lo fa stare bene è ancora un po intimorito perché non sa cosa farà quella ragazza ma la sua volontà è di staccarsi però con un po intimorito diciamo però visto c'è sa benissimo cosa vuole per sé ecco adesso è molto chiaro va bene se vuole lui può creare una vic come quella che ha assunto e la dà la fidanzata un barino che fa presa stati come sì 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 anche l'altro figlio e l'attesa va bene se lei come la vedi sempre agitata no no adesso la vedo molto decisa molto ferma e serena c'è l'è molto chiaro adesso che lei può creare la realtà come vuole che tutto in mano sua adesso è molto sicura di questa cosa e tranquilla che è così va bene disconnettiti da tutto e tutti e noi torniamo